E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo contratto di programma parte investimenti 2017-2021 di Rete Ferroviaria Italiana destinata al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina Matera Lamartella. Questo è il contenuto della nuova formulazione dello storico emendamento passato in commissione il bilancio della Camera che porterà a Matera la ferrovia dello Stato. L'iter in commissione dei vari emendamenti presentati, approvati, mandati indietro, riformulati, finalmente si chiude con il numero 37 aggiuntivo dell'articolo 74 al decreto fiscale nella legge di bilancio riproposto da Mariantezza con gli onorevoli Vico e Covello e che ora passa alla Camera per l'approvazione. La senatrice, sì lo sappiamo che ora siede tra i banchi della Camera, è entusiasta e parla di sogni che si avverrano, sogni e desideri che in queste settimane abbiamo seguito da vicino, per non dire mesi, visto che il presidente del Consiglio, occorre riconoscerlo, è stato lui più volte in diverse occasioni a ribadire l'importanza di dotare la capitale della cultura di un collegamento ferroviario. Qualche giorno fa è tornato sull'argomento, ancora una volta e con un tweet, ma si tratta solo di un primo importante passo. Certo, sappiamo che per la data del 2019 l'isolamento ferroviario non sarà colmato, ma il percorso adesso è diventato più realistico da percorrere. E ce lo ricorda un altro collega della senatrice Maria, il parlamentare del Cor Cosimo Latronico. Occorrerà vigilare perché sia la rete ferroviaria italiana insieme agli organi competenti, in primis la regione basilicata, facciano tutto il necessario per completare l'opera al più presto. E uno degli organi competenti si è espresso sempre in mattinata. Marcello Pittella, presidente regionale, ha sottolineato proprio questo aspetto, ovvero la riapertura di un capitolo storico. Per questo ha ringraziato sia i parlamentari lucani, che hanno saputo mettere da parte ogni divisione politica per raggiungere insieme questo grande risultato, che lo stesso governo Renzi. E adesso? Adesso occorrerà iniziare a discutere l'inserimento della stazione ferroviaria di Matera nelle tratte che contano, non solo come il già importante punto di arrivo, ma come snodo di passaggio lungo le direttrici nazionali. E non dite che siamo incontentabili.